Oggi 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. È una giornata importante anche per il nostro paese dove purtroppo tanti, troppi episodi criminali nei confronti delle donne vengono registrati. Donne che vengono uccise, ferite, oltraggiate dentro e fuori le mura domestiche. Una società rinnega se stessa se si volta dall'altra parte e se non interviene prontamente con fermezza contro questi episodi. Io dico alle donne voi dovete avere fiducia nelle istituzioni, le istituzioni sono a fianco a voi. Denunciate, denunciate chi vi fa del male, chi non rispetta il vostro essere donna, la vostra personalità. Ricordate di scaricarvi l'app YouPol che vi mette immediatamente in contatto con le forze di polizia che rintracceranno anche il luogo in cui voi siete in modo da intervenire immediatamente. E ricordate anche un'altra cosa, abbiate fiducia nella magistratura e nelle forze di polizia che sono al vostro fianco, sempre.